Sembrava neve, ma il manto che è imbiancato nel pomeriggio di oggi San Giovanni Rotondo è frutto di una violenta grandinata. Chicchi grandi come noci hanno coperto le vie cittadine e i campi circostanti. È la coda di una perturbazione che sta interessando il nostro gargano con piogge temporali e, come in alcuni casi, grandine. Dalla nottata deciso miglioramento con tempo prevalentemente buono, ma con temperature in leggero calo. Mercoledì sera è prevista un'altra ondata di tempo piovoso e umido, ma anche in questo caso durerà poco. Fine settimana l'insegna del tempo asciutto e stabile, temperature tra i 12 e i 16 gradi. L'inverno, come vedete, è ancora lontano.